Ciao, questo è Voci Metropolitane, il podcast della città metropolitana di Cagliari che spiega come funzionano i servizi digitali della pubblica amministrazione. Siamo Davide, Eleonora, Arianna e Alessandro, volontari del servizio civile digitale. Nell'episodio di oggi vi spiegheremo come funziona Pago.pia, il servizio che ti consente di pagare come vuoi e quando vuoi. Pago.pia è la piattaforma nazionale che ti permette di scegliere, secondo le tue abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la pubblica amministrazione e altri soggetti che forniscono servizi ai cittadini. Sei tu a scegliere dove pagare? Puoi decidere tra canali online come App.io, il sito del tuo ente creditore, il tuo servizio di home banking, la tua app di pagamenti preferita come SatisPay, Bancomat Pay e non solo, servizi di pagamenti online. Oppure presentando il bollettino Pago.pia presso lo sportello della tua banca, del tuo ufficio postale, degli esercenti convenzionati quali bar, edicole, farmacie, ricevitorie, tabaccherie e i punti di posta privata. Per i pagamenti online ti basta inquadrare il codice QR con l'app.io o la tua app preferita. Oppure utilizza i dati riportati sull'avviso per tutti gli altri canali di pagamento che lo richiedono. Puoi usare diversi metodi, dalle carte di credito a PayPal. Pago.pia è semplice perché consente di effettuare pagamenti online tramite un'unica piattaforma. È sicuro perché protegge i tuoi dati. È trasparente perché ti permette di monitorare lo stato dei tuoi pagamenti e ottenere le ricevute in tempo reale. È accessibile perché è disponibile online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Usa Pago.pia, la piattaforma digitale che ti permette di effettuare pagamenti verso la pubblica amministrazione e non solo. Quando vuoi e come vuoi, in maniera trasparente e intuitiva. Ricorda, puoi pagare online o sul territorio. Pago.pia è semplice, sicuro e immediato. E tu, sei stufo della tua carta d'identità sgualcita? Nel prossimo episodio ti spiegheremo come ottenere la carta d'identità elettronica e i suoi vantaggi e servizi. E tu, sei stufo della carta d'identità elettronica e i suoi vantaggi e i suoi vantaggi e i suoi vantaggi.